Un'opera strategica è fondamentale per controllare il flusso del traffico automobilistico, con l'apporto di un parcheggio che consentirà di ospitare il maggior numero di visitatori della città. E' tutto pronto per l'inaugurazione della rotatoria di Via Tazzori a Nocere Inferiore, che si terrà il 1 ottobre, un progetto che ha visto la realizzazione anche di un ampio parcheggio, funzionale alla presenza di visitatori che potranno stazionare a pochi passi dal centro. L'evento sarà presenziato dal governatore De Luca, dal presidente della regione Alfieri e dai vertici regionali per i lavori pubblici. L'opera sarà solo il punto di partenza per altri progetti, come affermato dal primo cittadino di Nocere Inferiore, Paolo De Maio, che durante la nostra trasmissione, filo diretto, ha annunciato la realizzazione di nuove opere. L'opera che abbiamo iniziato con la passata amministrazione, con il sindaco Torquato, fu un'intuizione quella di candidare quella progettazione a quel bando regionale. Noi l'abbiamo realizzata, messa in pratica, ovviamente con dei accorgimenti che immaginiamo ha potenziato e ha migliorato, ma cose che puoi realizzare solo seguendo materialmente il corso dei lavori. Crediamo in un'opera strategica fondamentale per tutto il comprensorio, un'opera che consentirà di vecolare il flusso delle automobili all'uscita del casello di Nocere Inferiore, che ha consentito di realizzare un parcheggio che al momento è per circa 97 auto, così che anche i nostri visitatori, gli altri comuni vicinori potranno arrivare a Nocera, parcheggiare l'auto e frequentarla a piedi. Un lavoro che proseguirà con il completamento del parcheggio nell'area proprio all'ingresso autostradale, è un'opera che inizialmente serviva solo a guidare l'accesso in città, ma che invece, notiamo, regola bene il flusso delle auto anche in direzione di Nocera Superiore e in direzione Pagani. Poi è ovvio che con la prossima uscita di Sant'Egidio, quella in direzione Salerno, che sarà introdotto a breve dall'amministrazione di Sant'Egidio e con la realizzazione del nuovo ponte della Betoncaver, ex Betoncaver, ponte Santa Croce, che prevede anche una rampa sulla uscita del casello autostradale, miglioreremo ancora di più la viabilità del transito di tutta la via Tezzori, così che i residenti di Nocera di Nocera Superiore potranno utilizzare quella rampa, così come i residenti di Sant'Egidio, Corbara, Pagani potranno utilizzare l'uscita su Sant'Egidio e chiaramente questi fattori normalizzeranno il traffico veicolare, considerando che noi abbiamo un uscita, una barriera autostradale proprio all'ingresso della città. A margine di questa inaugurazione che avremo martedì, durante la quale ospiteremo il direttore generale della società autostrada Napoli Pompei, il presidente della provincia, il consigliere regionale con delle gravabilità Luca Cascone, il presidente della regione Campania Vincenzo Di Luca, completiamo un iter che poi ci vedrà coinvolti solo in piccoli perfezionamenti e con l'ampliamento del parcheggio.